Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono tornata, lo so sono mancata tantissimo ma adesso vi spiegherò tutto con questo video Che bello mi si sono incastrati i mignoli, oggi un mi preparo con voi dove vi racconto la mia esperienza a Los Angeles, vi racconto perché sono mancata, vi racconto come mi sto sentendo ultimamente appena caduta la lampadina Prima di iniziare con il mi preparo con voi, se ancora non l'avete fatto vi invito ad iscrivervi al canale e di attivare ovviamente la campanellina per essere sempre aggiornati e avendo le notifiche appunto dei miei video di quando li caricherò E detto questo vi lascio al mi preparo con voi, vi mando un grosso bacio e buona visione Allora iniziamo con il mettere a posto tutte le cose, mi fa stranissimo essere qui anche perché è un sacco che non mi trucco decente Ultimamente sto facendo dei trucchi veramente troppo troppo tranquilli, mi sa che anche oggi farò un trucco abbastanza tranquillo perché non devo andare chissà dove Però iniziere subito, siccome mi sono già stesa la crema idratante, mio dio con questi capelli assomiglio a modalità Stranger Things Con tutti questi ricci, mamma mia anni 70-80, cos'è sta roba? Comunque inizio col stendere il primer, l'engover di Too Faced, mi piace tantissimo e infatti come vedete è già quasi a metà È veramente ottimo, non pensavo, cioè nel senso l'ho rivalutato Ho già utilizzato questa crema primer anni fa ma non mi aveva entusiasmato molto Forse per adesso invece l'ho provata e gli ho dato più chance e mi piace veramente tanto, devo dire che la mia pelle ringrazia Non ci sono siliconi, ci sono dentro c'è tipo l'acqua di cocco, ingredienti probiotici e bla 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 Non ho brufoletti come ce li avevo una volta, vabbè adesso è anche quel periodo del mese quindi mi sono spuntati un po' di brufolettini Però è migliorata tanto ma è tanto tanto secca quindi sto cercando di applicare più creme e più cose, nutrienti possibili, maschere e queste cose qua Allora inizierei subitissimo con il fare le sopracciglia Questo qua di Mulac mi piace tantissimo nella colorazione Perfect Brown Intanto io faccio le sopracciglia e chiacchiero con voi Sono tornata da Los Angeles e mi fa strano filmare proprio perché è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato un video E faccio sempre così, torno poi sparisco, torno poi sparisco Lo so che non è una bella cosa da vedere per voi ma spero appreziate anche questa cosa di fare il video quando voglio e non perché devo Quando non ho voglia non li filmo Anche se è diventato per me una fonte di guadagno, i social network sono diventati per me una fonte di guadagno, chiamiamolo lavoro Non mi obbligo nel farlo, cioè non voglio che diventi una cosa di dovere in modo negativo Ma di dovere nel modo positivo e di volere in modo positivo Quindi non voglio che sia una cosa come la classica persona che dice Oh che palle devo andare a lavoro Io non voglio che sia così, io non voglio che sia noioso, palloso, negativo Voglio farlo perché lo voglio fare Adesso mi sentivo di farlo perché è un periodo un po' triste per me Perché sapete che quando si avvicina a questo periodo dell'anno Ripenso alla perdita, ripenso a quello che non ho più Ripenso al passato e sono una persona molto emotiva, molto negativa Ultimamente non lo voglio più essere Quando sono da sola è la cosa peggiore Quando sono da sola penso e vado oltre e non mi rilasso Non riesco mai a rilassarmi o a essere positiva E quindi ho detto non devo star da sola Meglio che chiacchierò, meglio che colmo questa giornata Questa cosa con i video in modo che chiacchierò e mi sfogo E devo dire che sta funzionando Mi sto sfogando ecco E a parte questo sono stata a Los Angeles Anche per questo sono mancata Proprio perché non potevo fare video Mi stanno chiamando, il telefono è sopra Perfetto, lo lascerò suonare E cosa che volevo dirvi Allora, come vedete ho la ricrescita tra l'altro E la ricrescita si sta camufando abbastanza bene con i capelli Sono molto contenta di questo Perché non ho intenzione di farla Cioè non voglio proprio più rovinare i capelli Quindi mi sono detta basta Non farò nessuna ricrescita Perché sono già molto corti dietro Sembra che ho una scalatura fatta da un parrucchio rubriaco Quindi non voglio rovinarli La mia idea era quella di tagliarli a zero Non sto scherzando Non è un capriccio Non è una cosa da ridere Ma io in realtà volevo tagliarli a zero E farli ricrescere tutti Sia perché mi sono rotta di essere dipendente dai capelli Mi sono rotta di piacermi solo grazie ai capelli Quindi mi sono detta Perché non li taglio a zero Ed è una cosa che mi balla in testa da molto molto tempo Vado ad applicare il fondotinta Sì, passo già il fondotinta Applico il solito di Marc Jacobs Il solito È un po' che non lo amo Il Marc Jacobs Remarkable Questo qua è una tonalità 10 Light Era molto molto chiara Perché comunque sono ancora un pelo giallastra dall'estate Ultimamente come vi ho detto non mi sto truccando tanto Non sto usando fondotinta Ed è una cosa che wow Uso solo un po' di correttore Blush, terra e via Basta Io da prima che ho una formica nell'occhio Oh mio Dio L'acqua è gasata negli occhi Ho scoppiato una bollicina Avevo una bolla Vado a sfumare il fondotinta con la Beauty Blender umida E questa qua è una new entry la Beauty Blender Perché in realtà l'ho comprata prima di partire Con Antonio, Denti e gli altri Insomma eravamo tutti insieme da Sephora E siccome la mia Beauty Blender si era rotta già da tempo Ed era un po' che non usavo la Beauty Blender proprio come brand Ma utilizzavo quella di NYX Che tra l'altro stra adore Ve la stra consiglio se volete risparmiare È veramente ottima quella rosa Le vendono tipo a coppia Sinceramente la trovo anche un po' più morbida Questa la trovo un po' più vuota E non me la ricordavo così la Beauty Blender Come vedete è molto chiaro Però tanto dopo vado a scaldarlo Come è andata a Los Angeles? Ci siamo concessi una vacanza io e Andrea Io e il Pini Perché continuavo a sentirmi dire che la California è stupenda La California, che Los Angeles è stupenda Mi era piaciuta tantissimo Grazie appunto a NYX Sapete che era andata a gennaio dell'anno scorso Cioè di inizio anno in realtà Abbiamo fatto una testa talmente tanta Che ha detto ok Andiamoci e vediamo com'è La voleva vedere anche lui New York non ci aveva entusiasmato tanto E quindi siamo partiti e siamo andati Vi ho prenotato quest'estate Tra l'altro se vi siete persi i vlog Perché ho caricato e sto caricando i vlog giornaliere Adesso non so quando vi caricherò questo video Comunque ne mancano altri due o altri tre di vlog E vi ho registrato i vlog giornaliere Andate sul canale Fairland Che è il mio secondo canale Non tutti sanno che io ho un secondo canale Dove metto i vlog Comunque iscrivetevi E attivate la campanellina anche lì Così sapete quando carico i nuovi vlog E sono molto contenta Perché almeno abbiamo anche un ricordo Di questa esperienza Come quella di New York I primi giorni è stato molto brutto Perché non avevamo le nostre valigie Praticamente erano rimaste Francoforte per il cambio aereo Perché il nostro aereo Il primo volo aveva ritardato di oltre un'ora E i bagagli non avevano fatto in tempo A imbarcarli nel secondo aereo Quindi l'ultimo per arrivare a Los Angeles E siamo rimasti per due giorni senza valigie Quindi è stato veramente bruttissimo Perché non avevamo le nostre cose Non potevamo cambiarci Ho dovuto comprare un po' di vestiti Cioè almeno un cambio L'ho dovuto comprare Per quel giorno che eravamo lì Poi vabbè ovvio Io ho fatto anche il mio shopping Compulsivo Vi registrerò appena posto l'all Ed è stato molto bello Perché poi la vacanza è andata insomma A salire È stato molto entusiasmante Il resto dei giorni Siamo andati anche a vedere I nostri Nashville Predators Che in realtà Andrea aveva già Prenotato i biglietti Da parte questa sventura iniziale Ci siamo ripresi Ci siamo goduti la vacanza Come doveva essere già dall'inizio Ho anche incontrato Danny Lovato Nel senso che non è che gli ho fatto piacere Però l'ho vista cantare Mi ha cantato davanti Ci ha cantato davanti Ed è stata un'esperienza mistica Perché era la mia prima star Che vedevo dal vivo E il mio primo quasi concerto Perché alla fine è stato un mini concerto Di una canzone Ha fatto e se ne andatela Tipo una promozione del suo tour Io non sono mai stata a un concerto Lo so che questa cosa è molto triste Però non ho mai avuto L'opportunità di andarci Sia perché non ho mai avuto amiche Che ci andavano E ho sempre avuto amiche tristi come me Tipo Matt Corby Mi piacerebbe andare a vedere Il sistema Fadown Che io adoro Non essendoci mai andata Non so cosa mi aspetta Il correttore che sto applicando È quello di NYX Il goccia Numero 02 Che è completamente finito Io sto veramente Tirando fuori i rimasugli Che manco pensavo avesse Dentro il boccettino Vado a coprire un po' le occhiaie Perché è l'unico correttore Che a parte lasciarmi Questa parte idratata Che io adoro Vedermi questa parte super idratata Poi mi copre veramente le occhiaie Cioè mi annulla veramente Il colore delle mie occhiaie Perché non è né troppo bianco Né troppo giallo Né troppo rosa Né troppo arancione È un colore perfetto Per le mie occhiaie Infatti lo devo ricomprare Prima di andare a scaldare il viso Aspetto che tutto il fondotinta E il correttore Si assorbano bene E comincio con gli occhi Visto che comunque Li ho già primerizzati Con i prodotti che ho messo Ah tra l'altro Mi è arrivata la Born This Way Di Too Faced La cipria La devo provare Non sono un amante delle ciprie Perché mi seccano veramente tanto Avendo già la pelle secca Non è il massimo E vado ad utilizzare Queste due palette Non so ancora bene Che trucco farò Comunque utilizzo Queste due palette Paretto La Dreamy Matte Certo La Dreamy Matte Di Nabla Che mi piace tantissimo È una scrivenza pazzesca Gli ombretti Non mi entusiasmano tutti Però ci sono Quei due o tre ombretti Che utilizzo con piacere Gli altri sono un po' troppo chiari Su di me Non mi piace l'effetto Che fanno Questa qua invece È la Huda Beauty Desert Dusk Che mi è arrivata Un bel po' di tempo fa E la sto adorando Veramente Anche questa È già quasi Cioè Sì È rovinata È già rovinata Perché appunto La utilizzo tantissimo E non so che colore fare Non ne ho assolutamente idea I don't know Vabbè Utilizzo l'allabai Dalla palette di Nabla Questo qua Ogni volta che viaggio In aereo A parte che sto male Ogni volta che faccio poi Il volo di ritorno Perché come sapete Io sono sorda da un orecchio Nelle cose Nelle dieci cose O non mi ricordo adesso Se era dieci O venti O boh Cose che non sapete di me Avevo detto appunto Che ero sorda da un orecchio C'è ancora tanta gente Che non lo sa Infatti sì Sono sorda da un orecchio Cioè Da quello destro Perché da piccolo Ho fatto una Una febbre altissima Agli orecchioni Adesso non si è capito bene Come ho fatto a perderlo Perché neanche i miei Se ne erano accorti Quindi ho perso l'udito Non mi ricordo come Sia sentire da Tutte e due le orecchie Io sono sempre stata Abituata a sentire Solo da questo orecchio Qui ed è Abbastanza frustrante Anche perché da bambina Mi prendevano molto in giro Perché continuavo a dire Eh cosa Non ho capito Le maestre Mi prendevano in giro Ho avuto Veramente Brutte esperienze Anche a scuola Sono stata bocciata Perché non capivo niente E saltavo le lezioni Per andare a capire Che cosa avesse il mio orecchio Per andare a fare Gli esami Ma le maestre Non volevano Venirci incontro Quindi hanno detto No è meglio che ripeta l'anno Quindi in seconda media Sono anche stata bocciata Per questo Per una sventura Della vita Loro mi hanno Voluto bocciare Perché avevo perso Un po' di Settimane A scuola E quindi Non prestavo attenzione Come dovevo E hanno deciso di bocciarmi Ha deciso di bocciarmi Una maestra in particolare Una prof in particolare Abbastanza stronza Che ce l'aveva con me Ma questa è un'altra storia Il volo di ritorno Io soffro sempre Perché Avendo solo l'udito Da una parte Quando L'udito Quando la pressione Mi tappa l'orecchio Quello buono ovviamente È solo quello Che funziona Quindi Non sento più niente E sto per una settimana Malissimo Perché sento tutto vattato Cioè praticamente Sento malissimo Sento basso Sento come se fossi In una bolla E sto tutto il giorno A dormire Per evitare di Sentire male Perché è una cosa Che mi provoca Veramente tanti Tanti danni emotivi È una cosa bruttissima Veramente E quindi preferisco Stare a letto a dormire Fino a che il mio orecchio Non si riprende Fino a che appunto Poi non sto meglio Non ci sento di nuovo E quindi torno Alla gloria di sempre Questa cosa Però è molto brutta Perché appunto Questa settimana La settimana scorsa Sono stata male per questo Sono stata a letto Avevo anche il jet lag Quindi non riuscivo a Recuperare Il fuso orario italiano Insomma Il fuso orario di qua E quindi dormivo di notte Cioè dormivo di giorno E stavo sveglia di notte È una cosa bruttissima Io ho sempre detto Io ho sempre detto che sono nata Per quel fuso orario Perché io mi svegliavo prestissimo Ed ero fresca e arzilla Come non lo so Un koala Il koala non è fresco e arzilla Come un colibri Allora adesso applico Amethyst Questo qua Devo riprendermi Devo trovare di nuovo Lo stimolo di vivere E di non buttarmi giù Quando ci sono queste Brutte situazioni Sono una persona Che trova anche Abbastanza Facilmente Delle scuse Per non fare qualcosa Sono una paracula Questo è vero Cioè nel senso Se c'è qualcosa Che di giorno Mi fa perdere tempo Piuttosto che fare qualcosa Lo faccio Cioè nel senso Perdo tempo Il mio cervello Mi aveva messo pressione E quindi non voglio Che sia un dovere Per me a fare i video Voglio farli Perché li voglio fare Sono fatta così Ho comprato un sacco di cose Ho comprato Una cosa Che non vedo l'ora Di farvi vedere Nell'haul di Los Angeles Non voglio fare il video Haul Delle cose Che ho comprato qui Anche perché faccio fatica A farvele vedere C'è comunque Un'inquadratura più stretta Raga ma siete un bel Tutti utilizzare Quando non ho i pennelli È veramente una roba horrible Non è possibile Che non c'è un nero Cioè non c'è un nero In entrambe le palette Applico Out Questo qua Più scuro Spero di non andare A cambiare troppo il colore Però voglio intensificare La parte esterna Bah Lo rendo più marroncino Se mai dopo Lo vado A sfreddare Col viola E quindi Sì Ma anche qua Ho aspettato a registrare Il video Perché volevo La location giusta Io sono molto puntigiosa Non riesco a fare i video A cavolo Cioè non riesco A mettermile a registrare Anche in mezzo Tipo la monnezza Cioè non ce la faccio Più forte di me Io devo avere il video Che dico io Perché se no Non ve lo registro E non ve lo carico Sono un po' puntigliosa Sono un po' Pretenziosa Ecco È una cosa che Rema contro Il fatto di registrare i video Proprio perché Se non Se non ho la location adatta Non Cioè non Non li registro più So che in tante State anche aspettando L'home tour Ragazzi Cioè in tanti State aspettando L'home tour E mi dispiace tanto di questa cosa Che non sono riuscita ancora a registrarvelo Perché Andrea Mi deve ancora montare Quelle maledette mensole Cioè assurda Non Sta situazione è veramente assurda Le mensole Non le abbiamo ancora montate No Perché il video Deve uscire come dico io E se non ho le mensole in casa Se non ho la camera fatta Come dico io Non riesco a registrarla Cioè capite quanto sono disagiata Io spero ci sia Ok Ok Vado a prendere questi pennelli sigma Che mi sono arrivati da Sephora Ed è la collezione Non mi ricordo È il kit di sigma Che credo ci sia Già da Sephora Questo qua è il numero E40 Il tapered blending Pulito Così com'è Vado a sfumare I colori qua Oh Che bello Come sfuma bene Cioè raga Questo pennello è tipo quello Il 117 Mi pare Sì Che è un moto che non lo uso Di MAC Che appena lo usate Vi fa una sfumatura della madonna Tornando al discorso di prima Ho fatto un sacco di acquisti E non vedo l'ora di farveli vedere Sia perché li voglio usare Anche se alcune cose le sto usando Tipo questo maglioncino qua Le rimetto nella busta Per farvele vedere Perché se no me le dimentico Quando registro il video E dico Ah cavolo ecco Non ho fatto vedere quella cosa Voglio farvi anche Una specie di video outfit Dove Mixo i vari I vari vestiti Che ho comprato Anche le cose Che ho preso Da madama vintage Perché è un po' Che non parliamo anche di moda Di vestiti Che non vi faccio vedere Queste cose La cosa che mi rattrista È che questo canale Si è visto solo come canale make up Quando in realtà Raga no Cioè È nato come canale Di per culo Delle altre youtuber Perché in realtà Avevo fatto il cosa C'era la mia borsa Super perculante Quindi boh Non so perché Mi hanno categorizzato Solo come make up Quando in realtà Non è una delle mie principali passioni Anzi sta diventando una cosa Che va neanche al secondo piano Al terzo piano Perché mi piace il make up Ma non sono mai stata Una persona che Diventava matta Di una sola cosa Ma ho più passioni E avendo più passioni Mi concentro Su tante cose E non divento Non che gli altri Siano ossessionati Però Quasi Cioè In confronto a me Sono molto più ossessionati Io non sono una persona Che si ossessiona Alle cose Ma Coltivo Molte cose E infatti Non riesco mai A portarle a termine Perché mi concentro Su tante cose diverse Comunque prendo il correttore E vado a fare Una specie di Cut crease Qua Questo è molto Umido Quindi mi Molto umido Molto morbido Come correttore Quindi mi consente Di cancellare E rendere più Coprenti Gli ombretti Perché È molto Piccicoso Poi è la prima volta Che non mi interessa Se questo video Sarà lunghissimo Ma voglio veramente Tenervi tutte le chiacchiere Che ho in mente Di farvi Voglio anche sapere Come ve la state passando Voi Cosa ne pensate Del fatto che Io Sia mancata E secondo voi Se La persona che seguite Deve esservi Sempre fedele Nel senso che Deve caricarvi video Nonostante lei Non abbia voglia Cioè Cosa ne pensate Di questa cosa Perché so Che ci sono tante Tante persone Tanti follower Che si arrabbiano Se la loro Youtuber Del cuore Non pubblica Contenuti E vorrei sapere E vorrei sapere Cosa ne pensate Di questa cosa Io trovo Youtube Come ho sempre detto Una valvola di sfogo E il fatto di pubblicare video Perché si deve pubblicare Perché si deve stare sempre Sulla cresta dell'onda Perché si deve sempre tenere Occupato il proprio pubblico Altrimenti si cade a picco Altrimenti Oh mio dio Nella vita Non combinerai me niente Non monetizzerai Non farei soldi Non la condivido Io questa cosa Non la condivido Anche se in primis Alla gente Agli altri youtuber Che incontro Magari quando ci capita Di parlare di Di youtube Come un lavoro Dicendo che Cosa bisognerebbe fare Per Cioè ci sono quei discorsi Che si fanno No Io ho sempre dato Credo buoni consigli Dicendo Beh dovete impegnarvi Dovete caricare Sempre video Dovete 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 È una cosa che Da una parte condivido Dall'altra no Perché va contro la mia etica Cioè io do buoni consigli Però io poi non li seguo Perché giustamente Io non credo In questa cosa Io do i consigli A chi pensa Che youtube Deba diventare Per chi pensa Che youtube Deba diventare Un lavoro Siccome per me Non è proprio così Quindi io non Seguo quello che dico Proprio perché Per me non è così Cioè Vorrei diventasse Io vorrei essere Come le altre persone E dirmi Ok gloria Domani ti sveglia Le 8 Registri tre video Il pomeriggio Li monti Il giorno dopo Li pubblichi Ogni giorno così Ma poi non lo faccio Perché non lo faccio Perché non è un dovere Per me Cioè io non voglio Che sia un dovere Anche se allo stesso tempo Stimo e ammiro Tantissimo Chi ci riesce Chi fa Della propria passione Un lavoro così Affiatato E ovviamente Non sto agli a dire Ah questo non se lo merita Anzi no Dico bravo Beato Complimenti Io non riesco E non voglio Anzi io non voglio Non voglio essere schiava Della mia passione È questo che non voglio E non voglio neanche fare Questo discorso Che Per avere dei commenti Da voi Dicendo Ah brava Gloria Che la pensi così Perché ognuno Ogni pensiero è giusto Ogni persona che è su youtube Può fare quello che vuole E se hai iniziato Questo percorso È libero di farci Quello che vuole Può diventare Una web star Può diventare Una persona che carica Un video ogni tanto Può pensare a youtube Come una Una fonte di guadagno Come solo Come una fonte di guadagno Perché c'è chi nasce Solo per guadagnare Da youtube Non me ne frega un cavolo Mi dispiace Per voi Per chi Lo segue Anche se vi fa credere il contrario Ci sono quelle persone Le ho conosciute Ci sono anche persone Che come me Invece Non la prendono Poi così seriamente Ma nessuno di questi È sbagliato O giusto Perché ognuno Della vita Ragazzi Ve lo dovete mettere in testa Ognuno può fare Quel cavolo Che vuole Della propria vita Voglio solo sapere La vostra opinione Nel senso Di cosa ne pensate voi Quali sono Le vostre Le vostre idee A proposito di questa cosa Comunque raga Guardate Quanto è figo St'ombretto Questo è Immaculate Sempre dalla palette Dreamy Matte Dreamy Non Dreamy Matte Dreamy di Nabla Non voglio che nasca Un dibattito negativo Perché ripeto Ognuno avrà Comunque la propria Idea A proposito E non sarete voi A cambiarla Incazzandovi Dicendo no È sbagliato quello che dici Quindi voglio che comunque Vi facciate sapere la vostra Senza incazzarvi Senza prendervela con me O con altre persone Che hanno altre idee Altre opinioni Rispetto alle vostre Ricordiamoci che Il rispetto reciproco È una cosa Che si sta perdendo tantissimo Soprattutto sul web Io ho evitato tantissimo Il web anche per questo Ultimamente non mi ritrovo In questa community Non mi ritrovo a A sostenere quello che le altre persone Sul web dicono Mi astengo Dalle discussioni Che fanno altre persone Sul web Non mi intrometto Proprio perché Non perché io non ho Una mia opinione Anzi ve la sto esponendo Ma perché non voglio Che il web sia così pesante Io voglio entrare su Internet E svagarmi Tant'è che è stato fatto Per questo Credo e spero Non voglio entrare sul web Per incazzarmi una seconda volta Nella vita Dato che già la vita Ti dà Delle cose negative E delle storie Da combattere E anche questa cosa Che si cammuffa Una cosa Facendola diventare positiva A me non piace No Non voglio veramente Entrare in merito Ultimamente internet Per me è diventato Molto pesante Perché io devo Andarmi a creare Altri problemi Futili E frivoli Sinceramente Perché ci sono cose Molto più Importanti E pesanti Pensare E puntare il dito A quello che hanno gli altri È veramente triste Questo fa capire Quanto tu sia Setato di potere E non possa farne E non possa farne A meno Cioè È una cosa È una cosa Veramente brutta Sarò Immarginata Sarò Non lo so Già comunque lo sono Quindi Io torno a casa E ho Andrea Mia mamma Angela Michele Isabella O la mia famiglia Cioè Non ce l'ho con nessuno Con questo video Non voglio attaccare nessuno Voglio solo chiedervi Di lasciarmi fuori E di non reputarmi Una persona stronza O una persona antipatica O una persona Altezzosa Solo perché Non mi infilo Nei vostri drammi O nelle vostre battaglie Peace and love Io vi rispetto tutti Ma Spero che anche voi Rispettiate me Nella mia scelta La cosa più adulta Che possiate fare È Rispettare una persona Anche se non Condivide la vostra battaglia Anche se non condivide I vostri drammi Rispettare è una cosa Molto da adulti Detto questo Io applico la cipria Allora sì la cipria La terra di Too Faced La Milk Chocolate Soleil Che mi piace veramente tanto E l'applico con questo pennello A goccia appunto Insomma La FB03 di Sedona A me piace un sacco Mi piacciono un sacco I pedoni I pedoni di Sedona I pennelli di Sedona Perché Hanno delle setole particolari Molto morbide Ma allo stesso tempo Non troppo Che non riuscite magari A sfumare bene Perché quando si hanno Delle setole troppo morbide Macchiano Cioè stranamente Macchiano Secondo me sono molto comode Anche perché io Tendo a stringere un po' Questo pennello Quando voglio Indirizzare la terra E fare un po' Di contouring Per il resto Per il resto Poi lo lascio morbido Lo sfumo bene E come vedete Già con questa Io mi scaldo L'incarnato Se avete applicato Un fondotinta Troppo chiaro Con questo Scaldo tutto quanto Poi Vado ad applicare il blush Che Di blush Dov'è 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 Eh no eh No Non scherziamo Era quello di Mulac Applico Signorita Non è un blush È un ombretto Lo so Però prendo un po' Di signorita Lo sfumo sulla mano E poi lo applico Top Bello Adesso lo applico Poi lo vado a sfumare Con la beauty blender Con questo colore Che mi dovrebbe Scaldare l'incarnato Vado a scaldare anche il viso Facendo così Cioè andando anche un po' qui Per rendere un po' Rossa questa zona Tipo Mi sono imbarazzata E poi Piallo tutto Con la beauty blender Per andare a uniformare E Cioè E il cavolo Per andare a uniformare Punto Vado a spruzzare Il Lo spray hangover E non mi ricordo Se l'avevo sentito Dal vivo O anche Lo sentito Lo L'ho L'ho Visto nel video Di Mr. Daniel Perché lui Ha consigliato Tipo di spruzzare E poi mettere L'illuminante Perché appunto L'illuminante Poi risalta ancora di più Con l'effetto bagnato Che avete sulla pelle E poi applico La 06 Make it powder Di Paula P Raga è una cosa Spettacolare Questa cosa Cioè questa cosa E' una cosa Spettacolare Una cipra illuminante In realtà E' un illuminante Pazzesco Lo applico qui Come vedete Ha tipo Un sottotono Freddo Rosato Violaceo E mi piace Proprio per questo E poi è super scrivente Questo pennello Tende a A non rendere Scriventi Le cose che applico Perché è molto Molto ampio E ha poche setole Se lo applicate Col dito Poi è una cosa Pazzesca Però mi piace Perché riesco A stratificare i prodotti Con sotto lo spray Guardate che roba Cioè immaginatevelo applicato Con il dito La parte più sporgente Del sopracciglio Cioè guardate che cosa Non è E' una cosa pazzesca E' bellissimo Guardate il prima E guardate il dopo L'ho appena appoggiato E' una cosa Epica Epica Che poi col viola Degli occhi Ci sta benissimo Non vado ad applicare L'eyeliner Ma semplicemente Vado ad applicare Il mascara E utilizzerò Prima il piegaciglia Di Mulac Che è ancora impacchettato Anche se l'ho già guardato Poi vado ad utilizzare Il gentleman mascara Sempre di Mulac Che è la prima volta Che lo utilizzo Quindi vi dirò Già la mia prima impressione Il mascara in questione È questo Sembra un mascara blu In realtà è nero Vado a piegare le mie ciglia È fichissimo È morbidissimo E utilizzo uno specchio Perché sennò mi accueco Wow Prende tutte le ciglia Solitamente Ne lascio fuori Sempre qualcuna Con i piegaciglia Poi comunque Vado ad applicare Le ciglia finte E come ciglia finte Utilizzerò le Samantha Numero 7 Di Huda Beauty Che hanno Veramente la striscia Tanto tanto spessa Infatti non sono Le più comode del mondo Però fanno Uno sguardo bellissimo Mi piacciono tanto Bello il pack Oh Non l'avevo ancora visto Lo scovolino è tipo A onda È rotondato Ok È molto Come si dice Lo scovolino si impregna Molto bene del prodotto E già questa cosa Mi piace Perché ci sono quei mascara Che quando li tirate fuori Non hanno su un prodotto E dovete continuare Ad applicarlo E vi separa Talmente tanto le ciglia Che sembra che Non l'avete messo A me piacciono I mascara belli corposi Che vi impregnano Le ciglia di prodotto Cioè Secondo voi Com'è A me piace Bello Mi piace È approvato E lo applico anche Nelle ciglia inferiori Così poi dopo Mentre metto la colla Sulle ciglia finte Ha il tempo Di asciugarsi Per bene Che poi secondo me Avendo una Una pasta Un po' più dura Rispetto agli altri mascara Che sono più Sciolti Ma Come si dice Liquidi Ecco Si dovrebbe asciugare Velocemente Rispetto agli altri Spero Credo Essendo arrotondato La parte inferiore È molto comoda Da applicare Perché ha già la forma Spero che Avendo una texture Un po' più densa Rispetto agli altri mascara Super iperliquidi Non finisca Cioè non si secchi prima Perché è molto molto bello E adesso Vado a mettere la colla Su Samantha Samantha La colla che utilizzerò È quella di Huda Beauty Una cosa pazzesca Non gli davo un euro Cioè veramente Pensavo fosse una colla Di quelle Tipo ok Mettono la colla Della stessa marca Delle ciglia Wow Sarà una merdata Invece è molto bella Sembra una cosa Cinesata Tarocchissima Invece è molto figa A parte che c'è un sacco Di prodotto E poi la colla È nera Io non ho mai provato Le colle nere Non ho mai voluto comprare Perché pensavo Che facessero un effetto Bleh Invece copre tantissimo L'attaccatura Che normalmente Io andavo a stendere Con le ciglia Un velo di eyeliner Per camuffare Insomma l'attaccatura Con questo no Ne avete bisogno E si attaccano Benissimo Si asciugano presto E rimangono tutto il giorno Senza alzarsi Mi è piaciuta Veramente tanto Et voilà Eccomi con le ciglia finte applicate L'effetto è Wow È ancora più Finisco il look Con l'applicare Una tinta labbra Mi hanno ripromesso Di utilizzare un rossetto Perché da tanto Che io non utilizzo Un rossetto E mi manca Quella sensazione Un po' Idratata Idratante Idratante Sulle labbra Ma non Non ne ho qui In questo momento E se mi alzo Dato che mi sono alzata Più o meno Sette volte Perché la batteria La scarica Poi non si collegava Un casino Perché ovviamente Quando faccio i video Non è che può essere Tutto semplice No Deve essere molto complicato E questa cosa mi stressa L'unica cosa che avevo qua Adesso il mio beauty case Era questa tinta di Sephora Che è una delle tante tinte Che mi hanno inviato Se mi seguite su Instagram Anzi se non lo fate Fatelo E se non avete attivato La campanella Fate Avrete visto sicuramente La scatola Che mi hanno inviato Con tutte le tonalità Dei nuovi lip stain Di Sephora Nella tonalità 27 Sì 27 È molto molto bella Molto molto scura Autunnale E super Wow C'è un pelucco Sembra che mi baffi È impossibile Per me tenermi su un rossetto Una tinta Perché ogni volta che mi muovo Poi sorrido Mi si incastra il rossetto Mi macchia La mascherina E per toglierlo L'unico modo è Tipo toglierle Le mascherine E pulirle Neanche con lo spazzolino Vanno via Talmente sono power Le tinte E questo è il look finale Con questi capelli anni 70 Adesso cercherò di addobbarli In modo un po' più carino Perché faccio un po' ridere Mi piace tantissimo Nel complesso Ed era un sacco Che non mi truccavo così Particolare Pesante Usando tutti questi prodotti Ultimamente mi sto truccando Veramente poco e niente E non ho utilizzato La Born is Way Lo so Perdonatemi Lo utilizzerò nel prossimo Vi preparo con voi E spero torneranno presto E ce ne saranno tanti Sia per voi che per me Perché mi piace molto farli E registrare E chiacchierare Nonostante la videocamera Si scarichi Spero che questo video Vi sia piaciuto Io vi mando Un enorme bacione Fate un bel like Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per sapere quando Caricherò i prossimi video E fate la stessa cosa Sull'altro canale Fairland E se vi è piaciuto Questo video Scrivetemi un commentino Sia per il dibattito Di prima Di quello che ho detto prima E sia Se appunto Vi è piaciuto il make up E cosa ne pensate E quali sono i colori Che ultimamente utilizzate Sugli occhi E mi sento molto combattuta Non so mai che colori usare E fatemelo sapere Così magari Prendo ispirazione Dai vostri commenti Vi voglio tanto bene Grazie per avermi aspettato E al prossimo video Ciao Ciao